Benvenuti alle PN News di oggi. Recentemente girano un bel po' di rumor riguardo un possibile arrivo nella libreria di Nintendo Switch Online dei giochi del Game Boy e del Game Boy Color, affiancando così già gli 80 giochi del NES e i 50 giochi dello SNES disponibile con il servizio online. Recentemente però anche Eurogamer ha confermato queste fonti e quindi questo rumor si starebbe rafforzando sempre di più. Non dimentichiamoci che recentemente si sta parlando anche di un possibile Nintendo Direct nel mese di settembre, come è successo anche gli altri anni. Questa potrebbe risultare una notizia superficiale per alcuni di voi, ma ricordiamoci che il brand più famoso di sempre, sto parlando ovviamente di Pokémon, è nato proprio su Game Boy con Pokémon Rosso e Pokémon Blu o Pokémon Verde in Giappone. Questo potrebbe essere un grande indizio quindi per un possibile ritorno di questi due storici titoli all'interno delle console Nintendo, con l'abbonamento di Nintendo Switch Online e con un possibile nuovo servizio che ospiti anche i giochi della prima console portatile di Mamma Nintendo. E voi ragazzi cosa ne pensate di questa notizia? Credete anche voi che arriveranno Pokémon Rosso e Blu su Nintendo Switch grazie al Nintendo Switch Online? Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a condividerlo con tutti i vostri amici, a iscrivervi se ancora non l'avete fatto ed attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. E non dimenticate di passare dai social che trovate in descrizione. Per questo vi è detto tutti vi ringrazio per essere passati, ciao allenatori! Grazie per la visione!